Ciao sognatori e benvenuti in questo nuovo video ASMR in italiano io sono Elle e oggi in questo video rilassante ho qui per voi vari drinkers oggi in questo video parlerò sia con sussurri che in soft spoken mi piace tantissimo soft spoken e chi mi segue da tempo probabilmente lo saprà oggi sono qui con la mia nuova fotocamera difatti la sto testando mi piace tantissimo questo autofocus che è e non so se si sente ma piove prima pioveva di più ora ha smesso un pochino però io comunque sento la pioggia nelle cuffie però ok stavo dicendo oggi ho vari drinkers qui per te sognatore e sognatrice che mi stai guardando e ascoltando andrò a fare dei triggers random sono sincera perché come ho detto voglio testare la fotocamera ed è il mio primissimo video con questa fotocamera quindi mi sento emozionata ed ho messo la miglior funzione per l'autofocus secondo me anche se c'è questo obiettivo che sto cercando di mettermi a fuoco costantemente quindi si gira c'è questo rumore non so se si sentirà nel video credo di sì però credo non dia fastidio quindi se si sentirà un la fotocamera devo ancora testarla per bene capitemi tuttavia il primo suono che ho qui il primo suono, il primo oggetto è questo? chi se lo ricorda? ma vi ricordate come erano famosi i fidget spinner l'anno scorso? dovunque, dovunque c'erano questi giocattolini è quasi ipnotico adoro adoro e al ... Sembrano fiori Grazie a tutti. Cercherò di provare le varie messe in fuoco di questa fotocamera, tuttavia per ora questa mi sembra la più efficace, ma chi lo sa? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vedete perché questo pennello ha queste setole? Io ho i pennelli disagiati, ma davvero, e chi mi segue da tantissimo tempo lo saprà, credo se ne ricorderà la storia dei miei pennelli. Chi si ricorda i miei pennelli? Conzni di conzni? della marca KONZN in tutta la vostra vita avete mai sentito la marca KONZN? no? è normale ovviamente io dovevo averli una marca così strana che è anche difficile pronunciare cioè per la serie compro una vocale e quei pennelli erano super disagiati tuttavia spero in un video chiacchiere riproporli riproporli ma perchè quanti ce ne ho? non credo me ne siano rimasti molti in verità però uno dovrei averne si, uno mi sembra che ce ne ho nei commenti vi farebbe molto 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 piacere leggervi e sapere cosa ne pensate della qualità di questa fotocamera mi piace tantissimo però mi interessa tantissimo il vostro parere e lo sapete dunque le mie sognature le mie sognatrici se commentate questo video mi farebbe molto piacere leggervi in una in una storia non mi ricordo di quanto tempo fa non molto sul mio account instagram e per l'appunto ti consiglio seguirmi su instagram perchè è lì che bene o male aggiorno chiesi se il mio pubblico italiano guardava i miei video e parecchi per messaggio mi dissero che si guardavano i miei video ma non li commentavano e la domanda è perchè? mi fa piacere leggerli non vi molto mica in questo caso e in questo caso in questo video se qualche sognatore e sognatrice sta guardando questo video in questo momento può commentare dicendomi cosa ne pensa della qualità i commenti dei miei scritti sono sempre importantissimi per me sempre in qualsiasi circostanza adoro 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 troppo ebbene sognatori questo video è abbastanza random di camera test e di suoni qui finisce spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia rilassato ho scelto dei suoni che personalmente mi piacciono spero che piacciono anche a voi grazie per aver guardato questo video grazie per essere così speciali grazie per essere i miei sognatori io vi mando un bacio molto grande e noi ci vediamo al prossimo video Bye Bye